ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video per quanto riguarda i regali di natale che ho ricevuto ho ricevuto alcune cose e le altre ovviamente le ho acquistate e volevo farvi vedere proprio tutto quello che ho preso adesso allora per prima cosa vi faccio vedere scusate il rumore questo sacchetto di piazza italia perché i miei figli mi hanno regalato un completo che io avevo visto in quel momento lì aspettate che lo prendo un completo per quanto riguarda queste festività sanno benissimo che a me piace mi piacciono i pantaloni di pelle e tutto e quindi hanno voluto prendermi qualche cosa e non so se vi farò vedere il video outfit perché fa un freddo boia e sinceramente non mi va di fare veste spoglie comunque allora i pantaloni in questione sono questi sono elasticizzati mi avevano preso una 46 ma io l'ho dovuta cambiare ho preso una 44 la devo ancora provare devo dirvi sinceramente la devo ancora provare perché la 46 in vita stavano larghissime e considerate che io ho la panciotta allora questi vabbè c'è anche il prezzo se lo volete sapere si vede e sono fatti così hanno una zip e in più i bottoncini a pressione qui hanno la zip come vi ho detto e bottoncini mi piace molto il fatto che hanno l'elastico in vita hanno le tasche che a me piace tantissimo e anche nella parte dietro ci sono queste tasche e poi i pantaloni sono dritti fino ad arrivare al polsino sotto che è una cosa che io adoro perché metterli con le scarpe col tacco sono veramente fantastiche potete mettere sia lo stivaletto che proprio la scarpa col tacco direttamente nel senso una scarpa più elegante mi strapiacciano tantissimo non vedo l'ora di utilizzarli non li avevo messi perché erano grandi e poi hanno accoppiato questo bellissimo maglioncino che questo è bello perché è un bel maglioncino ampio con tutti questi colori mi piace tantissimo e la manica rimane così che indossata forma una specie di palloncino proprio alla fine della manica vedete la differenza va a svasare alla fine questo mi hanno preso lxl che è la misura giusta e il prezzo è 19 95 anche questo ed è questo ed ha il colletto così leggermente più alto della forma normale e poi è abbastanza lungo e ampio lungo no arriva in vita ma è abbastanza ampio ed è una cosa che mi piace ed è questo poi sempre per quanto riguarda piazza italia io ho acquistato questi pantaloncini sempre per rimanere in tema di pelle finta pelle che sia sono questi pantaloncini che io ho visto la gonnellina da zara e sinceramente il tessuto mi sembrava simile non ho voluto spendere 40 euro da zara ma ho speso esattamente 19 95 da piazza italia qui c'è il prezzo e io ho preso una m perché la stessa cosa erano larghissimi in vita erano troppo troppo larghi o è il modello che è sicuro che il modello perché non sono così dimagrita così tanto ed è questo qua ovviamente in vita va fatto il fiocco perché io lo avevo l'avevo visto direttamente col fiocco mi piace tantissimo hanno questa parte svasata e considerate che io sono abbastanza alta ma i pantaloncini specialmente con una calza adere aderente coprente sono fantastici e poi hanno tutto questo elastico qua che stringe e in più lo potete stringere con le culisse che avete qua so mi sbaglio si hanno le tasche e sono dei bellissimi bellissime pantaloncini a me piacciono tantissimo non vedo l'ora di utilizzarli poi un'altra cosa l'ho presa da suiki e ho preso una cosa particolare che non mi vedete spesso ecco è caduta non mi vedete spesso ma a me piace tantissimo quando l'ho vista mi sono letteralmente innamorata ed è questa gonna in tulle vi dico subito il prezzo qui c'erano soltanto due misure sm ml a me diciamo era abbastanza larga la ml però l'ho presa lo stesso perché la metto un po più bassa ed è costata 19,95 si vede 19,95 mi piace tantissimo il fatto che a questa cintura tutta glitterata e tutta svolazzante si prese il microfono tutta svolazzante e mi piace molto con questo tool così ed è poi la gonna non so se si vede la parte della gonna dove finisce che sarebbe qui e poi ha il tool non so se si vede qua sotto c'è la gonna si vede in trasparenza e poi c'è il tool che copre io lo vedo bene con degli stivaletti e mi piaceva tantissimo non vedo l'ora anche questa di utilizzarla perché è fantastica veramente poi ho ricevuto vabbè per natale ho ricevuto soldi poi vi dico cosa mi ha regalato la mia migliore amica sinceramente mi piaceva anche farvi vedere cosa gli ho regalato io e i miei figli perché gli abbiamo regalato alex la volevo mettere nel video di dei prodotti di amazon ma sinceramente non volevo spoilerarle perché è lei che monta il video quindi non volevo spoilerarle il regalo e poi abbiamo preso delle cose da stradivarius le felpe che mi piacciono tantissimo infatti le andrò a prendere anch'io e faccio vedere cosa mi ha regalato mi ha regalato qualcosa di berska anzi tre cose di berska e vi faccio vedere il primo che sarebbe questo ed è un pellicciotto una giacchetta pellicciotto aspettate che ve la chiudo io di questa la posseggo bordeaux grigia e marroncina se non mi sbaglio e poi marroncina e nera acquistate da jennifer se non mi sbaglio l'anno scorso e questa è quella di quest'anno ed è un color beige che io non avevo assolutamente è tutta tutta pellicciosa tutta tutta nella parte interna ovviamente è foderata e vi dico anche i prezzi perché ci siamo andati insieme il prezzo del pellicciotto io ho preso la l ed è costato 35 e 99 questi ho già l'avevo visti quindi il prezzo lo so e mi piace tantissimo io lo utilizzo tantissimo questi pellicciotti e adoro la manica invece a differenza degli altri che non hanno il bordino questo è il bol di il polsino a differenza degli altri che non hanno il polsino questo ce l'ha e mi piace tantissimo perché mi blocca proprio il la giacca mi piace tantissimo poi c'è l'arricciatura al di sotto e le tasche che è una cosa che ci deve essere assolutamente poi andiamo avanti sempre lei mi ha regalato sempre di di bersk di bersk da questo lato mi ha regalato un'altra cosa facciosa che avevo visto sempre assieme a lei quindi lei poi è rientrata ed ha comprato i regali ed è questa felpa bellissima che non vedo l'ora di utilizzare che una felpa oversize con questa scritta che c'è scritto nebraska nebraska si credo che sia nebraska tutta piena 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 di pelo vi dico anche questo è il prezzo così la potete trovare anche adesso di questo abbiamo preso la m ed è costata 27 99 abbiamo preso una m perché la l era troppo grande era troppo grande allora queste sono quelle felpi abbastanza grandi con il polsino che è una cosa che a me piace e poi è tipo dovrebbe essere tipo un crop top ma c'è a me sta benissimo e mi piace perché sta proprio appoggiata alla vita ed è una cosa che io adoro in assoluto e poi a questo pelo cioè io adoro le cose con il pelo non non so cosa dirvi ma fra d'oro poi un'altra cosa sempre che mi ha regalato lei è una felpa che è questa sempre comprata da berska e vi dico anche questo è il prezzo abbiamo preso una s e questo è costata 24 99 vi dico i prezzi veramente non perché debbo dire quanta spesa e tutto ma perché queste cose le trovate tuttora e io sapevo di questi acquisti perché le avevo anche provati e quindi non mi interessa molto il prezzo di questo abbiamo preso una s perché sono oversize allora a me piace vestirmi oversize e tutto ma sembrare tipo cafonata tipo sacco di patate sinceramente no e quindi ho preso questa di bambi in onore di bambi di sabrina ho preso questa bellissima felpa di abbastanza grande e abbastanza ampia ovviamente mi piaceva tantissimo questo grigio melange ed è veramente fantastica io la adoro non vedo l'ora veramente di utilizzare tutto per finire ovviamente devo ancora spendere gli altri soldini mi ha regalato anche una borsa da questo negozio qua sweet sweet candy mi ha regalato una borsa ma questa borsa me l'ha regalata per santo stefano siccome io mi chiamo stefania siccome ovviamente in base al nome per santo stefano mi ha voluto fare questo regalo e mi ha preso lo zainetto della santoro della gorgeous io adoro sinceramente adoro 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 queste queste borse anche questo zaino perché fantastico adesso lo apro perché lo indoscerò quasi subito si può dire allora questa si può utilizzare sia come borsa perché se slacciate questi lati diventa come borsa sia come zainetto a me piaceva ambedue le cose mi piaceva tantissimo perché quando andiamo tipo all'aution preferisco non avere tipo la borsa da prendere le cose tutto quindi ce l'avevo sempre a portata di mano invece messo dietro ho le mani libere e riesco a a fare acquisti quindi a prendere le cose provarle tutto e quindi preferisco utilizzarlo proprio come zainetto togliamo questa vela apro allora la parte aperta è così c'è una tasca qui poi si apre e qua dentro c'è un sacco veramente un sacco di spazio veramente tantissimo poi il fatto che mi devo portare anche la bottiglietta per bere quindi è ottima ed è un bellissimo bellissimo zainetto io adoro sinceramente questo zainetto ed è della santoro gorgeous bellissima bella 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 allora questi sono tutti i regali che ho ricevuto se posso e se loro vogliono ovviamente vi metterò i regali che abbiamo fatto per quanto riguarda i miei figli mio marito la mia migliore amica ve li metterò vi farò delle foto li farò tipo quando indosseranno queste queste cose perché miei figli gli ho fatto delle cose da indossare anche la mia amica e anche mio marito abbiamo comprato delle cose da indossare vediamo se posso vi metterò la foto se non vedete la foto ovviamente li vedrete su instagram perché lì quello che non posso mettere su youtube lo metto direttamente su instagram niente che dirvi di più io adoro i miei regali di natale mi sono piaciuti tantissimo adesso non vedo l'ora che iniziano gli sconti per usufruire di tutti i soldi che ho ricevuto quindi devo sperperare tutto e niente che dirvi di più io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao